Sono l'ingegner Fiorani, sono coordinatore della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri qui di Milano. La fondazione è un'emanazione dell'Ordine degli Ingegneri che però ha come funzione specifica formazione, quindi fare formazione agli iscritti all'Ordine ma non solo, nel senso che in genere tutti i nostri eventi sono aperti non solo agli iscritti ma anche a chiunque sia interessato a partecipare. In genere la fondazione organizza due tipi di eventi, diciamo quelli a pagamento dei corsi che hanno uno scopo specifico di formazione per far crescere le competenze di chi partecipa a questo corso e altri più informativi tipo seminari, convegni eccetera. Quindi noi facciamo tutte queste attività. Le facciamo per conto dell'Ordine perché l'Ordine non può gestire una partita euro sostanzialmente, non può gestire la parte economica di questo fatto, quindi la fondazione emanazione dell'Ordine ha questo compito, una fondazione senza scopi di lucro naturalmente che ha questo obiettivo principale. Quindi come tale la fondazione ha bisogno di spazi per fare queste attività e siamo passati da una vecchia sede molto prestigiosa in corso Venezia, Palazzo Serbelloni, a una nuova sede qui che è un'altra tanto prestigiosa per Gio Ponti, l'architetto di questo palazzo un po' più decensata, che però ci ha permesso di avere delle nuove aule, quindi una nuova installazione di tutte le apparecchiature che ci potevano servire per dare il servizio migliore. Tra voi sono con l'obiettivo di dare il massimo di qualità e di flessibilità nei vari servizi, quindi un tema che ci interessava molto risolvere qui avendo tre aule è poterle utilizzare sia singolarmente sia un endole, magari come se fosse, non fisicamente ma con dei collegamenti audio-video, per mettere a più iscritti che dovevano distribuirsi in aule diverse di vedere lo stesso evento, quindi partecipare nello stesso evento, quindi tutte e tre le aule possono essere collegate e seguire lo stesso relatore con le slide, proiezioni, video, eccetera, audio, ovviamente. Grazie.